Gli scali pugliesi sono in buona salute, ma non mancano le polemiche delle quali pure Aeroporti di Puglia deve tenere conto e alle quali pure deve dare, qualora le ritenesse fondate e non strumentali, risposte certe. Capisco le legittime istanze del territorio, me ne faccio carico, ma mi sembrano incredibili perché c'è una cosa che non può mentire in una struttura industriale e sono i numeri. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, spegne così le polemiche partite dal territorio leccese relative alle presunte inefficienze dell'aeroporto di Brindisi, che negli anni è diventato punto di riferimento dell'intera area salentina. Non riesco a comprenderla, diciamo, oltre quei due voli Roma e Milano, perché? Perché in questo momento siamo al massimo della capacità operativa, cioè abbiamo il più alto numero di voli che ci siano mai stati nella storia dell'aeroporto del Salento. Quindi lo prendo come uno stimolo a fare meglio, ma non come una critica per ciò che è stato già fatto. Questo sarebbe profondamente ingiusto anche rispetto al lavoro di 450 uomini che, credetemi, hanno preso sulle loro spalle, perché hanno compreso il lavoro che stavano facendo, per il benessere collettivo dell'intera Puglia. Quindi, no, non la comprendo e non sono, gli investimenti sono stati fatti, sono a loro termine, o meglio, sono al termine del primo giro, ce ne saranno degli altri che riguarderanno le infrastrutture, quelle fuori terra, diciamo così, l'aerostazione, il parcheggio multipiano. Ma per il resto, guardi, io mi ritengo soddisfatto e ritengo che l'aeroporto di Puglia abbia soddisfatto al compito che l'azionista le ha richiesto.